Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del Fatto del Giorno. Ancora un fine settimana di stragi sulle strade italiane. Sabato notte due ragazze di 17-19 anni hanno perso la vita in provincia di Treviso dopo lo schianto della loro auto contro un albero. L'alta velocità e un sorpasso azzardato sarebbero le cause dell'incidente. Le stragi sono in aumento. Dall'inizio dell'anno sono 195 le persone morte sulle strade durante fine settimana. Una persona su tre ha meno di 35 anni e solo nell'ultimo weekend sono state 17 le vittime. I dati in aumento rispetto a un anno fa sono dell'ASAPS, l'Associazione Sostenitori Polstrada. Gli incidenti mortali vedono spesso vittime anche i pedoni. Nei primi due mesi del 2023 ne sono morti 87. Nell'Azio il maggior numero di vittime. 19 morti, dico i 12, solo a Roma. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno ha ricordato le vittime della strada. È la prima volta che un capo dello Stato tratta questo tema in tale occasione. Ascoltiamo le sue parole. Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d'auto a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro. Servono più controlli e campagne di sensibilizzazione. Ma per ora siamo solamente a una politica di annunci. A inizio anno il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha promesso modifiche al Codice della Strada, sanzioni più dure per chi guida ubriaco sotto l'effetto di droghe e ha sottolineato l'importanza dell'educazione stradale. Per questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Fatto del Giorno. Grazie a tutti.